Oggi voglio parlarti dei liberi percorsi di talenti. I liberi percorsi di talenti sono la mia personale proposta di orientamento al tuo esserci nel fare. La cosa più difficile oggi nelle strutture del lavoro è proprio quello di riunire il nostro talento di essere umani alla pratica del fare e quindi molto spesso siamo frustrati, tristi perché sul lavoro manca la nostra umanità. All'interno dei liberi percorsi di talenti il mio primo obiettivo è proprio quello di sentire come è possibile far sì che questa unione tra lavoro e essere umani si possa ricreare. Molto spesso la persona dovrà fare proprio dei cambi, dei cambi di lavoro che magari sono scelte che già insomma si pensava di fare. In altre situazioni basta solo iniziare ad esprimere le proprie opinioni con i colleghi di lavoro e con il proprio datore, ma in sostanza ciò che conta è recuperare quella gioia dell'esserci nel fare. I liberi percorsi sono liberi perché esattamente come tutto ciò che nasce la nostra espressione ha bisogno di venire al mondo attraverso la gioia e attraverso la libertà di manifestare la propria natura. Esattamente come un albero cresce e poi mette i propri frutti e i propri fiori, allo stesso modo la natura umana è fatta per germogliare, per nascere a se stessa e quindi la libertà è il valore più grande da tutelare all'interno della nostra esistenza. La libertà significa anche appartenenza attraverso il lavoro. Alcuni degli strumenti che uso nei liberi percorsi di talenti sono ad esempio il genogramma familiare, l'enneagramma e questi mi servono per intendere qual è la situazione della persona. Ogni volta tutti quelli che sono i miei strumenti si adagiano sulla realtà che porta la persona e ad esempio con il genogramma familiare è possibile andare a comprendere a seconda dei casi se il talento ha subito degli ostacoli in qualche modo all'interno delle generazioni precedenti a quella del cliente. Quindi che cosa è successo al talento collettivo della famiglia nella generazione dei genitori ma anche nella generazione dei nonni? Il talento non è mai solo personale, il talento è quello dell'intero sistema e nel momento in cui qualcosa si blocca è ovvio che l'ultimo discendente può sentire delle interferenze. Di tutto questo ovviamente ti parlo anche all'interno del mio libro La misura del talento che ho appena pubblicato con Anime Edizioni e quindi il mio suggerimento è quello di leggere anche questo libro per sentire se tutto l'insieme della mia visione sul talento è di tuo interesse. Un altro strumento ti dicevo è quello dell'enneagramma. L'enneagramma è un modo per intendere il proprio carattere non solo come fissità ma come prerogativa dello stare al mondo. Alcuni leggono il mondo attraverso l'azione, altri attraverso il pensiero perché amano pensare e stare in questo mondo delle idee, altri ancora sono dei caratteri di sentimento. In tal senso capire la natura di questa pianta che siamo, la natura della nostra anima è fondamentale per riuscire a sentire come abitare il nostro talento. In sostanza il mio auspicio è quello di rendere le persone il più possibili aderenti alla propria espressione di vita. Ti auguro un buon viaggio nel percorso dell'espressione di te. Ciao, grazie.